Domenica 18 aprile, in occasione del 362esimo anniversario della Costituzione del Corpo di Granatieri di Sardegna, le sezioni di Sulmona e di Raiano hanno ottenuto una breve e quanto semplice cerimonia costituita dalla deposizione di un fascio di fiori accanto al monumento ai caduti in piazza Carlotresca a Sulmona. Il primo modello assoluto di esercito permanente nell'Europa continentale è poi diventato Corpo Granatieri di Sardegna, 362 anni di attività militari, di tradizioni, di aiuto alle popolazioni in difficoltà. Sulla scorta di secolari tradizioni, i granatieri innovano il ricordo di chi si è immolato sulla via del dovere. Una cerimonia semplice, dicevamo, dovuta alla nota pandemia e dalle restrizioni imposte dalle normative in vigore. normative che tendono ad evitare gli assembramenti. In definitiva erano presenti i due presidenti delle due sezioni di Sulmona e di Raiano, rispettivamente Orazio D'Angelo e Franco Di Loreto, i quali hanno deposto un fascio di fiori accanto al monumento. Presente Donato Agostinelli, delegato provinciale di L'Aquila dell'Istituto Nazionale per le Guardie d'Onore delle reali tombe del Panteon, nonché custode del sacello militare di Badia a Sulmona. Agostinelli per il nostro tramite ha voluto ringraziare le sezioni di Granatieri di Sardegna di Sulmona e Raiano per la singolare nobile iniziativa tesa alla celebrazione dell'anniversario della nascita del Corpo Granatieri di Sardegna. Il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, ha voluto inviare un messaggio ai Granatieri e dalla comunità comprensoriale tutta. Il mio saluto qui vale come una presenza e una partecipazione attiva ad un momento commemorativo per dei caduti di un corpo storico italiano e presente sul nostro territorio con le sezioni di Sulmona e Raiano. Caduti di tutte le guerre oggi devono essere ricordati anche con un piccolo e semplice gesto come può essere una deposizione di un mazzo di fiori, deve far riflettere tutti, soprattutto i giovani, del valore del sacrificio, del valore della libertà e della pace.